La mostra di pittura Il cartellone estivo del comune di Mottola ed è il presidente dell'associazione culturale Arte e Cultura. 15 gli autori che hanno esposto tra i migliori che partecipano alla rassegna internazionale e pittori città di Mottola che si svolge sempre nella città in provincia di Taranto nel periodo di Natale da ormai 43 anni. Opere di varie tendenze artistiche a tema libero come nature morte, paesaggi e futurismo. Questi gli artisti che hanno partecipato a questa edizione, Anna Giulia Caprio di Conversano in provincia di Bari che ogni anno cura la copertina della rassegna di Mottola. Nicola Giudetti di Taranto che porta avanti la valorizzazione delle tradizioni tarantine. Il gruppo Forlei, un gruppo di artisti con sedia a Taranto in Via Duomo, Vincenzo Santoro, Tarantino, Cinzia Raffo di San Giorgio Ionico, Giorgio Ruggeri e Vincenzo Savarese entrambi di Taranto. La serata è stata allietata da Martino Chiarelli che ha suonato la fisarmonica elettronica. Presente il sindaco di Motola, Giovanni Quero e il consigliere provinciale Luigi Pinto. Numerosi sono stati gli spettatori che hanno voluto seguire l'iniziativa in piazza Municipio. E' quindi una bella manifestazione di due giorni, ieri e oggi. Quindi in dante io ringrazio tutti gli artisti che hanno partecipato e anche il comune di Motola, l'amministrazione, il sindaco e l'assessore Carucci che ci hanno dato questo spazio.